L'Italia è ancora un paese di migranti. Passano i decenni, i tempi cambiano, ma non sembrano cambiare le speranze e le prospettive di tanti nostri connazionali che continuano a vedere l'estero come un'opportunità per il proprio futuro. Alla base di questo flusso continuo c'è sicuramente la voglia di cambiamento, condita anche da un certo spirito di avventura, ma la spinta principale è sicuramente data dall'attuale situazione economica e dalla crisi del mondo del lavoro. L'immigrazione nel nostro paese non conosce soste, anzi è addirittura in aumento. Partire per un altro paese resta una delle principali alternative per i nostri giovani e chi lascia l'Italia difficilmente torna indietro, lo fa solamente chi all'estero ha visto fallire i propri sogni e i propri progetti. Prima di sogni Grazie a tutti. Grazie a tutti.